Una serata dedicata completamente al palcoscenico si svolgerà questa sera al Teatro San Carlo di Napoli. L'appuntamento alle 20.30 presso uno dei teatri più belli e suggestivi d'Italia, che ospiterà numerosi big dello spettacolo italiano che parteciperanno alla serata finale del premio Le Maschere del Teatro Italiano, organizzato dal Napoli Teatro Festival Italia in collaborazione con l'Agis. A salire sul palco sarà Tullio Solenghi, presentatore di questo evento che verrà inoltre trasmesso in diretta differita alle 23.15 su Rai 1. Nel corso della cerimonia verranno consegnati riconoscimenti a tutti coloro che durante la scorsa stagione teatrale si sono distinti, riuscendo ad ottenere il maggior numero di voti da parte di una giuria composta da oltre 400 professionisti del settore. Mancano davvero poche ore quindi e si conosceranno i nomi dei 12 vincitori delle 12 categorie del premio, miglior spettacolo, miglior regia, migliore attore ed altri otto attestati per altrettante eccellenze del teatro italiano. Numerosi inoltre i nomi illustri tra i tanti candidati, da Luca De Filippo a Pepe Barra, passando per Mariangela Melato, Ugo Pagliai e Lina Sastri. Quest'anno infine il premio speciale della giuria andrà Massimo Ranieri, che con le sue reinterpretazioni dei classici di Edoardo in italiano ha dato un grande contributo al teatro in televisione.